Il comune di Bagnaripoli Le Chiavi della Città al Giuda Toscano Un sogno che si avvera che è cominciato ormai dall'aprile del 2014 cominciamo al Teatro Sistina a Roma durante il Venerdì Santo e da lì doveva durare appunto solo tre mesi in realtà poi tutta l'Italia ha richiesto questo spettacolo e quindi siamo andati in tour per tutta l'Italia Grazie anche all'aiuto dei suoi genitori oggi Faisal può intraprendere l'attività che ha sempre desiderato mantiene però ben salde le radici nella sua terra è legatissimo ancora a Grassin, a Bagnaripoli è qui che ha fatto in qualche modo anche i suoi primi passi, ce l'ha raccontato l'aria buona di Bagnaripoli produce davvero buoni frutti e quindi le chiavi della cittadinanza della comunità di Bagnaripoli Faisal se le meritate tutte uno di noi è come tale e lo resterà sempre